Domani in campionato affronteremo la squadra di Puglianello, è una squadra che abbiamo incontrato in amichevole anche, è una squadra che cerca di cercare su dei ritmi più lenti rispetto ai nostri, quindi dovremo lavorare, abbiamo lavorato in settimana per alzare i ritmi e cercare di portarli sui nostri ritmi, quindi correre veloci, provare ad andare via in contropiede e poi giocare a ritmi alti e su metà campo. Abbiamo lavorato in difesa per arginare un po' i loro giochi offensivi, per provare a contrastare i loro giochi offensivi, in settimana abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene oggi, facciamo allenamento al completo, martedì invece abbiamo lavorato e ci mancavano alcuni giocatrici, in settimana complessivamente il lavoro è andato abbastanza bene, speriamo domani fare una buona partita. Non è una partita facile, infatti è una formazione molto diversa dalla nostra, c'è una giocatrice molto forte che ha giocato anche in Serie A, è un lungo e quindi noi dato che in questo momento abbiamo difficoltà sotto canestro dovremmo difendere soprattutto di squadra, ci stiamo allenando infatti per questo, stiamo allenando sia l'attacco ma soprattutto la difesa e niente domani dobbiamo metterci molta energia perché non possiamo rallentare il ritmo, non possiamo stare al loro gioco ma dobbiamo appunto giocare il nostro di gioco e dare il meglio.